Il 10 ottobre 1920 inizia per Magenta un'esperienza unica nella sua storia, si costituisce infatti la prima amministrazione socialista, sindaco Camillo Formenti, assessore all'istruzione Carlo Fontana che qui vediamo è figiato dietro in quello che è il municipio di Magenta e come assessore all'annona e ai servizi sociali Brenno Cavallari che è una figura di grande rilievo anche dal punto di vista nazionale per l'esito triste della sua vita, ma di fatto noi ci concentriamo su quella che è la realtà magentina e di come questa giunta cambierà in maniera radicale la politica e l'amministrazione dando vita a un laboratorio di esperienze e anche di proposte molto all'avanguardia per quanto riguarda per esempio la distribuzione delle tasse in maniera più equa, alla municipalizzazione dei servizi, il contenimento della disoccupazione, la crescita di opere pubbliche e in particolare con Carlo Fontana un'attenzione tutta particolare alla scuola e ai suoi bisogni. Ecco di tutto questo parleremo il 4 di marzo in occasione appunto del primo corso dell'Università del Magentino a cui invitiamo tutti voi.